Come avete potuto vedere dai numeri che vi ho dato ci avviamo verso una nuova fase dell'evoluzione dell'emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa che era diventata bisettimanale. Ovviamente non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani, quelli che abbiamo sempre fornito e in questa occasione vorrei anche ricordare un po' il bilancio di questo periodo soprattutto per quello che riguarda l'impegno del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Siamo partiti con la dichiarazione dello stato d'emergenza con l'impegno dei nostri volontari a supporto delle azioni di prevenzione in particolare per quanto riguardava il controllo dei porti e degli aeroporti. Abbiamo controllato più di 4 milioni e 100 milioni di passeggeri nei nostri porti e oltre 4 milioni e 100 passeggeri nei nostri aeroporti e 190 mila passeggeri nei porti. Dopodiché come sapete c'è stata la chiusura dei nostri porti e dei nostri aeroporti. Grazie all'impegno dell'Aeronautica Militare dell'Unità di Crisi della Farnesina abbiamo lavorato per garantire il rientro in patria dei nostri connazionali che erano a Wuhan e a bordo della nave Diamond Princess in Giappone. Le forze armate sono state pesantemente impegnate accanto ovviamente al personale sanitario che è stato impegnato nella gestione dell'emergenza, le forze di polizia. Le forze armate sono state particolarmente preziose per il loro supporto sia di logistica che per quanto riguarda il supporto alle strutture ospedaliere che erano in sofferenza con l'allestimento degli ospedali da campo dell'esercito a Piacenza, Cremona e agli presi della Marina Militare.